ciao a tutti e benvenuti su 3d skill up io sono francesco saviano e oggi siamo qui per parlare di uno strumento di modellazione fondamentale in blender l'estrusione se sei nuovo alla modellazione 3d non preoccuparti questo tutorial è perfetto per te insieme esploreremo i fondamenti dell'estrusione e come utilizzarla per creare forme complesse in blender quindi prendete il vostro mouse e seguitemi mentre vi mostro come usare l'estrusione come un vero professionista l'estrusione è uno strumento fondamentale per la creazione di qualsiasi tipo di modello 3d e ne parleremo nel dettaglio in questo video iniziamo con le basi l'estrusione crea un'estensione di qualsiasi selezione stiamo lavorando entriamo in edit mode premendo il tasto tab e scopriamo le opzioni di estrusione nella barra di sinistra con l'opzione estrudi attiva potremo iniziare a creare nuove forme estrudendo vertici spigoli o facce e per fare tutto questo niente di più semplice del tasto e quando estrudiamo le facce la nuova geometria si muove lungo la normale della faccia stessa ma se vogliamo spostarla lungo uno degli assi globali x y z possiamo farlo semplicemente premendo e più l'asse desiderato ad esempio e più x estruderà lungo l'asse globale x facile no ora mettiamo subito in pratica le cose apprese finora e creiamo un simpatico tavolino partiamo dal cubo ed entriamo in edit mode selezioniamo lo strumento move e con la modalità selezione faccia attiva spostiamo questa faccia qui ora selezioniamo tutto con il tasto a e scaliamo leggermente sull'asse y con s più y poi inseriamo dei loop cut con ctrl più r qui e qui e spostiamoci nella lista dall'alto con il tasto 7 sul tastierino numerico aggiungiamo nuovi loop cut con ctrl più r qui e qui e ora siamo pronti a creare le gambe del tavolino grazie all'estrusione selezioniamo queste quattro facce qui e quindi premiamo il tasto e per estruderle ed ecco a voi un tavolino fresco di fabbrica ora è il momento di approfondire l'estrusione lungo le normali questa tecnica è perfetta per creare effetti di rilievo o per modellare superfici con forme complesse ad esempio possiamo usarla per raggiungere un tocco di originalità al nostro tavolino selezioniamo le facce che vogliamo modellare in edit mode poi nella toolbar di sinistra clicchiamo e teniamo premuto il tasto sinistro del mouse sul pulsante di estrusione in questo modo si aprirà un menu con altre opzioni di estrusione tra cui anche extrude along normals un altro modo per accedere facilmente a questo menu e premere alt più e e dopo aver scelto estrudi lungo le normali basterà spostare il mouse a destra o a sinistra per aumentare o diminuire l'estrusione e confermare quindi con il tasto sinistro del mouse ricordiamoci di attivare l'opzione offset even nella finestra in basso a sinistra che si apre subito dopo andiamo adesso ad esplorare l'estrusione individuale un'opzione molto utile per lavorare in modo indipendente su ogni faccia vertice o spigolo selezionato durante l'operazione di estrusione in pratica questa tecnica ci consente di estrudere facce individuali lungo le loro normali locali ad esempio se vogliamo creare dei rilievi su facce in direzione opposta possiamo usare l'estrusione individuale come vediamo nell'esempio del tavolino possiamo attivare l'estrusione individuale dopo aver selezionato le facce che ci interessano sempre dal menu che si apre in edit mode con lo shortcut alt più e oppure dal menu estrusione nella toolbar di sinistra come abbiamo visto in precedenza perfetto stiamo imparando sempre di più sull'estrusione ma sapete che non è solo limitato alle facce giusto possiamo anche usare l'estrusione su bordi e vertici ad esempio potremmo facilmente creare un profilo per un oggetto 3d e poi utilizzare la funzione spin per creare un calice in 3d tuttavia prima di poter usare spin è importante assicurarsi di impostare correttamente il 3d cursor e l'origine al centro per ottenere i migliori risultati possibili oggi abbiamo visto come l'estrusione sia uno strumento potente e versatile nella modellazione 3d completa ma ci sono ancora alcune domande che potrebbero sorgere la prima domanda che potrebbe venire in mente è posso creare forme complesse utilizzando l'estrusione la risposta è sì l'estrusione può essere utilizzata come base per creare forme complesse e dettagliate tuttavia per ottenere forme complesse l'estrusione deve essere utilizzata insieme ad altre tecniche di modellazione 3d come la manipolazione di vertici spigoli e facce l'uso di booleane di modificatori come beaver solidify subdivision surface e la conoscenza della topologia in questo modo si possono ottenere risultati ancora più creativi e dettagliati l'unico limite è la tua immaginazione e la tua capacità di utilizzare questi strumenti in modo creativo la seconda domanda che potrebbe venire in mente l'estrusione funziona con oggetti complessi come i modelli organici o solo con oggetti semplici come il cubo la risposta è che l'estrusione può essere utilizzata per la modellazione di qualsiasi tipo di oggetto ma quando si tratta di modellare oggetti organici come ad esempio i personaggi la tecnica principale da utilizzare lo sculti in ogni caso l'estrusione può essere utilizzata per creare parti di dettaglio rifinitura su modelli organici grazie per aver seguito questo tutorial su blendere l'estrusione spero che tu abbia trovato questa guida utile che ti abbia fornito le basi per iniziare a sperimentare l'estrusione nella modellazione 3d se hai domande e commenti non esitare a lasciare un commento qui sotto sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere prima di chiudere voglio anche annunciare che a breve sarà disponibile sul nostro canale un nuovo timelapse della modellazione della colt dragoon con blender quindi non dimenticate di iscrivervi per non perderlo grazie ancora e ci vediamo al prossimo video